Potrà lasciare il carcere e andare agli arresti domiciliari Cushaouia Zedin, il 25enne marocchino accusato di omicidio preteritenzionale per i fatti avvenuti nella notte tra l'11 e il 12 luglio all'hotel Corona di Voghera. Un 41enne tunisino, Elmin Effati, era morto dopo essere stato aggredito da Zedin. La vicenda non è ancora stata chiarita, i due avevano avuto una discussione, pare perché la vittima si fosse messa a urlare in piena notte non permettendo all'altro di prendere sonno, terminata con un pugno. Neffati, dopo il colpo subito, era sceso in strada a chiedere aiuto. Portato in ospedale, morì due ore dopo per un improvviso arresto cardiocircolatorio. A Zedin venne arrestato l'indomani mentre scendeva dal treno. La mattina presto era andato a lavorare come fosse un giorno qualunque, ignorando quanto era accaduto al suo rivale dopo la lite. Innesso tra la morte di Neffati e il pugno ricevuto da Zedin però resta tutto da dimostrare. Nel frattempo per i 25 anni marocchino erano stati disposti gli arresti. Era apparso evidente fin da subito che non ci fosse la necessità di una detenzione in carcere, ma Zedin non aveva una casa e quindi era impossibile per lui chiedere i domiciliari. Stava all'hotel Corona in una stanza condivisa insieme a molti altri come lui in condizioni di fragilità economica. In quest'estate però qualcosa è cambiato. La Caritas è riuscita a trovargli un alloggio da poter eleggere come sede per gli arresti domiciliari. Il giudice quindi ha consentito la richiesta della difesa scarcerando il 25enne. Rimane comunque agli arresti in attesa che la perizia del medico legale possa dare i primi chiarimenti sulla presunta relazione tra la lite e la morte di Elmine Fati.